la pubblicità è sicuramente un aspetto fondamentale nella vendita di un immobile per questo la nostra agenzia è sempre aggiornata sui metodi di marketing strategico più innovativi ed efficaci per vendere gli immobili nel minor tempo possibile difendendo il prezzo proposto un buon annuncio delle belle foto professionali una vetrina accurata aggiornata ben visibile collocata nel centro del paese una bacca in posizione strategica i cartelli sono sicuramente metodi proficui ma noi non vogliamo fermarci qui attraverso uno studio costante del marketing abbiamo deciso di adottare metodi che ci differenzino dalle altre agenzie e che rendano la vendita piacevole e veloce pubblichiamo gli immobili sul nostro sito facendo attenzione a tenerlo sempre aggiornato abbiamo una presenza costante sui principali social facebook ed instagram sui quali investiamo inoltre in campagne di sponsorizzazione mirate ma non ci fermiamo qui il nostro fiore all'occhiello è il video marketing immobiliare siamo la prima e l'unica agenzia in zona ad utilizzare correttamente questo metodo ed i risultati sono incredibili il video attrae molti più clienti e se aggiungiamo anche il nostro servizio di home staging la strategia che rende il tuo immobile il più attraente sul mercato il risultato sarà veramente sorprendente la tua casa non sarà una tra le tante ma sarà il centro della nostra attività se vuoi una pubblicità studiata e creata su misura viene a trovarci in agenzia e troveremo insieme il modo migliore per realizzare i tuoi progetti attrae Grazie a tutti.